un giorno il vento soffiava molto forte e a casa di Boris e Barbara Bear era stata lasciata una finestra aperta quando Boris tornò a casa dal lavoro nel bosco rimase sorpreso di trovare la casa piena di foglie Barbara Barbara gridò Boris ti sei dimenticata di chiudere la finestra e ora la casa è piena di foglie ma Barbara non era in casa dove poteva essere proprio in quel momento Barbara tornò con un cestino pieno di cose ciao Boris disse ero al villaggio a fare la spesa ma ti sei dimenticata di chiudere la finestra guarda cosa è successo in casa il vento ha portato tutte queste foglie nel nostro soggiorno avresti dovuto ricordarti una cosa così importante oh mi dispiace Boris disse Barbara Bear spazzerò fuori tutte le foglie ma non dovresti arrabbiarti tanto perché anche tu ti dimentichi delle cose alle volte io non dimentico mai cose importanti disse Boris Bear era ancora piuttosto arrabbiato con Barbara vado a trovare miffi disse ricordo di averle promesso di costruirle un capanno prese i suoi strumenti e le assi di legno e mise tutto nel suo carrettino guarda disse mi sono ricordato di prendere tutto ciò di cui avrò bisogno in modo da poter fare il lavoro correttamente disse Barbara non disse niente di più e continuò a spazzare via le foglie mentre Boris spingeva il suo carrettino verso il bosco quando arrivò a casa di miffi cominciò a costruire un piccolo capanno della misura giusta per il monopattino di miffi ha un aspetto stupendo disse miffi grazie Boris Boris si sentì molto orgoglioso di aver fatto un così bel lavoro nel frattempo Barbara Bear aveva finalmente finito di spazzare via tutte le foglie dalla casa e si sentiva molto stanca dopo aver lavorato così sodo rimise la scopa nel laboratorio di Boris al suo posto e cosa pensate che vide sul banco da lavoro di Boris una serratura e una chiave proprio in quel momento miffi chiuse la porta del suo nuovo capanno ma questa si riaprì di nuovo la porta non rimane chiusa Boris disse miffi ti sei dimenticato di metterci una serratura o no disse Boris in quel momento apparve Barbara nel giardino di miffi con qualcosa in mano era la serratura di una porta ti sei dimenticato questa Boris chiese Barbara Bear pensavo che tu non dimenticassi mai niente di importante Boris Bear era molto imbarazzato ma miffi disse oh no anch'io mi sono dimenticata una cosa importante mia mamma mi aveva detto che avrei dovuto prepararvi una buona cioccolata calda per ringraziarvi per il nuovo capanno e si misero tutti a ridere un giorno miffi era molto eccitata perché dopo la scuola con il suo gruppo di danza avrebbe fatto le prove del nuovo balletto insieme alla zia Alice quando la scuola finì tutti si incontrarono fuori arrivò Winnie che era molto brava a girare su una gamba poi arrivò Melanie che era eccezionale a fare le pirouette ma dov'è granti chiese miffi è la migliore a fare i salti proprio in quel momento videro granti che arrivava ma granti zoppicava oh no disse miffi cos'è successo granti perché zoppichi è successo al parco giochi disse granti sono caduta dallo scivolo e mi sono slogata una caviglia riesco a malapena a camminare proprio in quel momento la mamma di miffi arrivò con la macchina non preoccuparti granti disse miffi non dovrai camminare ti accompagnerà la mia mamma in macchina fino a casa di zia Alice lei sa curare le caviglie doloranti sì disse la mamma di miffi zia Alice conosce un sacco di cose utili così mamma bunny partì in macchina con granti miffi melanie e winnie la seguirono a pieni presero una scorciatoia attraverso i campi e arrivarono tutte insieme a casa della zia Alice in cima alla collina mi stavo chiedendo che fine aveste fatto disse zia Alice quando venne a sapere che granti si era fatta male seppe esattamente cosa fare prenderò una pezza fredda e te l'avvolgerò intorno alla caviglia granti disse la zia Alice questo la farà sgonfiare granti si mise seduta su una poltrona con la gamba posata su un cuscino non le faceva male ma era molto triste per non poter ballare con le sue amiche miffi winnie e melanie si allenarono per il balletto ma anche loro erano tristi perché granti non poteva unirsi al gruppo non siate tristi ragazze disse zia Alice non è così grave ho una crema speciale per la caviglia di granti e penso che sarà pronta per ballare allo spettacolo che ci sarà a scuola la prossima settimana quando arrivò la sera dello spettacolo a scuola tutti si chiedevano se granti sarebbe stata davvero in grado di fare i suoi salti il sipario si aprì e partì una splendida musica per prima ballò winnie sul palcoscenico brava brava fantastica poi venne melanie con le sue splendide pirouette e miffi seguì ballando come un cigno tutte aspettavano di vedere granti winnie trattenne il respiro melanie chiuse gli occhi miffi espresse un desiderio poi arrivò granti e fece tre grossi salti sul palcoscenico tutti applaudirono brava 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 granti disse non mi ha fatto per niente male grazie alla zia Alice mamma bunny aveva fatto dei deliziosi biscotti miffi ne stava portando un po a boris e barbara bear mentre camminava nel bosco vide un uccellino su un albero alla base dell'albero notò che c'erano uno due un sacco di funghi e guarda pensò ci sono molte nuvole bianche alte nel cielo si mise a contarle una due tre e ci sono anche delle belle farfalle una due tre quattro che altro potrei contare poi miffi si ricordò che superata la panca di legno ci sarebbe stato ancora qualche albero prima di raggiungere la casa di boris e barbara bear ecco la panca così cominciò a contare un albero due alberi tre alberi quattro alberi cinque alberi ed ecco che era arrivata ciao miffi disse boris è un piacere vederti ma guarda il cielo ci sono delle nuvole molto scure lassù e il vento sta diventando più forte penso che stia arrivando un temporale sarà meglio che ti riporti subito a casa ma ho portato dei deliziosi biscotti che ha fatto la mia mamma per te e barbara disse miffi non preoccuparti potrai tornare a trovarci domani e allora potremmo prendere tutti un tè con i biscotti così boris bear portò a casa miffi presto il vento cominciò a soffiare più forte miffi era felice di essere tornata a casa al sicuro per tutta la notte miffi sentì il vento che soffiava intorno alla casa la mattina dopo il vento si era calmato ma quando miffi guardò fuori dalla sua finestra vide fogli e rami sparsi tutti a terra all'ora del tè miffi chiese alla sua mamma se poteva andare di nuovo a trovare boris e barbara bear certo cara disse mamma banni e miffi partì vide che anche nel bosco c'erano fogli e rami sparsi ovunque a terra quando raggiunse la panca cominciò a contare un albero due alberi tre alberi quattro ma non c'erano più alberi l'ultimo albero era caduto durante il temporale miffi era scioccata boris boris gridò boris uscì di corsa da casa guarda cosa è successo ma boris non sembrava sorpreso di quello che vedeva alle volte gli alberi vengono abbattuti dal vento quando c'è un grosso temporale miffi disse ma vieni con me e portò miffi sul retro della casa guarda ogni anno pianto degli alberi nuovi e li faccio crescere un po' quando sono abbastanza grandi li pianto nel bosco posso aiutarti a piantare un nuovo albero accanto agli altri chiese miffi naturalmente disse boris bear lo faremo subito ora ci sono di nuovo cinque alberi disse miffi e poi venne l'ora del tè e tutti gustarono i deliziosi biscotti un giorno miffi stava tornando a casa da scuola quando improvvisamente snaffi la superò correndo e arrivò per prima alla porta d'ingresso snaffi corri molto più veloce di me disse miffi non riuscirei mai a batterti in una gara mentre entrava in casa miffi ebbe un'idea potremmo organizzare una grande gara di corsa con tutti i nostri amici disse alla sua mamma tu e il papà potrete venire ad assistere miffi telefonò per primo al suo amico boris bear boris disse voglio organizzare una gara ma avrei bisogno di alcuni cartelli che indichino qual è il percorso da seguire boris disse beh io non sono molto bravo a correre ma sarò felice di fare i cartelli con le indicazioni poi miffi telefonò agli altri amici e disse loro della gara quando arrivò il gran giorno boris bear aveva preparato tutti i cartelli li piantò tutti nel terreno per indicare la direzione giusta un cartello blu un cartello giallo un cartello rosso un cartello verde e per ultimo un cartello bianco tutti i corridori si allinearono sulla linea di partenza c'erano miffi eggy melani granti e anche boris barbara teneva alta in aria la bandiera per dare il via alla gara gridò pronti via e sventolò la bandiera partirono tutti correndo più veloci che potevano chi avrebbe vinto prima passarono tutti dal cartello blu ed eggy era in testa boris cercava di correre veloce ma non era abituato a correre e presto rimase indietro rispetto agli altri poi passarono il cartello giallo ora c'era granti in testa il successivo fu il cartello rosso e improvvisamente c'era in testa melani poi passarono il cartello verde e guardate ora era miffi a condurre nel frattempo erano arrivati mamma e papà banni ma avevano parcheggiato la loro macchina proprio di fronte al cartello bianco improvvisamente i corridori si fermarono e si guardarono intorno non sapevano da che parte andare perché non riuscivano a vedere l'ultimo cartello era nascosto dietro la macchina mentre si guardavano intorno molto perplessi boris li raggiunse sbuffando e ansimando completamente a corto di fiato ma boris continuò a correre passò la linea del traguardo e barbara sventolò la bandiera sei tu il vincitore boris gridò sono così orgogliosa di te poi mamma e papà si spostarono con la macchina per andare a congratularsi con il vincitore appena si furono spostati tutti gli altri corridori poterono finalmente vedere l'ultimo cartello bianco e cominciarono a correre più veloci che potevano miffi arrivò per prima alla linea del traguardo ma naturalmente era arrivata molto dopo boris come hai fatto a trovare la direzione giusta boris chiese granti nessuno di noi riusciva a trovarla beh sapevo dov'era il cartello perché l'ho messo io lì disse boris ma boris disse barbara questo non è giusto nei confronti degli altri ma io non ho partecipato alla corsa per vincere disse boris bear sono semplicemente felice di essere riuscito a finire la gara è miffi la vera vincitrice tutti applaudirono e risero perché la gara era stata molto divertente a miffi piaceva molto la musica e voleva imparare a suonare il flauto lo suoni molto bene miffi disse mamma bunny ma per questa melodia sono necessari anche altri strumenti miffi disse è vero potrei invitare la mia amica eggy lei potrebbe suonare la fisarmonica certo disse mamma bunny e poppy pig suona molto bene il basso potrei telefonarle ed invitarla ad unirsi a noi al telefono papa e poppy pig suona molto bene il basso potrei fare il basso potrei fare il Pi disse, vengo sicuramente. Mi piace molto suonare. Posso portare anche la mia nipotina, Granti? Sta con me questa settimana. Lei sa suonare il pianoforte. Oh, cara, disse mamma Bunny. Che peccato, noi non abbiamo un pianoforte. Però porta comunque la piccola Granti. Troveremo qualcosa da farle suonare. Eggie arrivò per prima. E così cominciarono a suonare una melodia a due. Poppy Pig impiegò molto tempo per portare il suo basso su per la collina alla casa di Miffy. Lei e Granti alla fine riuscirono ad arrivare. Allora Miffy, Eggie e Poppy cominciarono a suonare una melodia a tre. Ora andava molto meglio. Ma la piccola Granti non aveva ancora uno strumento da suonare. E così non si divertiva. Non abbiamo un vero pianoforte, Granti, disse Miffy. Ma devo avere un pianoforte giocattolo. Sono sicura che lo suonerai meravigliosamente. Ora potevano suonare tutti insieme. E il risultato fu davvero ottimo. Ma la piccola Granti alla fine riuscirono. Miffy, Miffy, Corri e Vai! Con i tuoi amici ti divertirai. Snaffy, Granti, Boris e... Anche Poppy è qui con te. Tutti insieme si è...